E ciao a tutti ragazzi, sono Kerren e oggi, anche se in maniera un po' diversa dal solito in quanto tra i vari problemi della club ho avuto anche io problemi di webgam, oggi siamo così quindi oggi siamo un pochino più kawaii del solito e meno Fabio Rippa sperando che questo porti fortuna perché nel caso in cui le cose vanno male non c'ho faccine tristi cioè c'è solo questa ma non è che sia proprio una faccina triste, è un po' una faccina pezzottata quindi speriamo di fare soltanto le faccine contente e gli urrà e proviamo un attimo questi ticket volanti anche perché la manutenzione è durata troppo io devo scendere e ambrava ci ci coccò, tre civette sul comò solita storia no? solita storia, andiamo ehi, andiamo la luce già non mi piace, cioè è una cosa proprio che già, già questa no cioè già gli ssr garantiti vai già gli ssr garantiti e la luce così no perfetto, merda, merda, merda merda uno che non ho, incredibile faccia scossa no vabbè ma seriamente, cioè questi veramente siamo, vabbè madre di dio cioè bestiale cioè se li potevano pure tenere se le intenzioni erano queste soft no problem ma proviamo pure questi altri eh proviamo pure questi altri sperando che questi siano meglio di ah qua fricciarco baleno eh qua esce qualcosa di buono è uno Roberto no Roberto tu non porti fortuna però la fricciarco baleno la vuole essere bugato pure il coso eh logicamente mi serviva logicamente mi serviva pure questo pure questo pure questo mi serviva pure i limited stavano nel mezzo mamma mia madre dei camaldoli mamma che pull c'è una cosa proprio sono indeciso tra il vomito acuto mamma mia madre di dio va bene ragazzi non avevo tantissime aspettative ma tanto peggio di così non si poteva andare quindi e ci becchiamo nel prossimo video perché devo scappare la Kelab ha un pochino esagerato con la manutenzione adios e sayonara ciao 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 ciao